Se si ritrae la gengiva, tu vai, come ti dicevo prima, a riallineare, perché poi sotto è così. Sotto è così per tutti? No, dipende. Quando noi abbiamo una gengiva molto stabile, nella linea superior, andiamo a fare questa parte lucida in metallo, in titanio. Ma quella conviene farlo quando la gengiva è già stabile, perché se no c'è il rischio, e poi hai il rischio di recessione. Come fai in quel caso? Questi perni sono delle copie degli impianti, poi c'è un colletto qua, qua in realtà ci sono altri due pezzi, c'è l'impianto e il multi unit qua in mezzo, in quest'area. Qua inizia la protesi e verso la gengiva abbiamo un materiale che può essere modificato, in caso di modifica, della gengiva. Questo è dove ci saranno i denti, qui ci saranno i denti, è vista da sotto la protesi. Diciamo nell'osso. Nell'osso. Praticamente hai qui sopra l'osso. Ecco. Per me è ovvio, ok. Per voi no. No, era... Quelli sono delle coppie degli impianti che servono al laboratorio per tenere in mano il modellino. Però materialmente noi qua su abbiamo materiale di quel colore, così, quello intendo io. Questo? Sì, quello. Gli impianti sono grigi. Tu c'è... In titanio, è tutto titanio. Non cambia... No, 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 no. No, no, è sempre titanio. Il titanio che va a contatto nell'osso è il materiale che integra. Quello che si attacca all'osso... Sì, se non lo fa in titanio non si attacca nulla all'osso. Poi quello che qua esce può essere la parte a contatto con la gengiva, perché qui ci sarà la gengiva tra un'impianto e l'altro. Può essere o composito o metallo. Il metallo lo metti quando la gengiva è molto stabile. Se invece è una gengiva, ci sono due tipi di gengiva, una stabile e una instabile. Quella instabile conviene mettere il composito, perché sai già che lì si modificherà la gengiva, allora ti metti al riparo mettendo materiale che può essere modificato. In realtà se poi si ritrae e tu avevi metallo a contatto, basta che consumi il metallo, mezzo millimetro e fai passare il composito. È risolto. C'è sempre una soluzione. Però l'ideale è andare a copiare i materiali col tipo di gengiva che c'è, andare a copiare gli impianti col tipo di osso che c'è, i denti col tipo di biomeccanica che c'è. Se è un viso che sviluppa forze, ne sviluppa poche. Scoordinato o bello coordinato. Se ci sono visi che proprio le mandibole si muovono così, il paziente dice chiudi, chiudi di nuovo, chiudi. Non trova mai l'occlusione, ha più occlusioni. Proprio non la trova. Allora lo teniamo, il paziente ti faccio vedere, gli immontiamo sopra i denti un disclusore si chiama, lo vedi qua. Lui chiude e ha un pin qua che non lo fa chiudere. E ha un piattino con un puntino che non gli fa chiudere i denti. E noi gli diciamo che ora muovila a mandibola avanti, muovila di lato, muovila di qua. Quel puntino, qua prima con un pennarello colori di nero, disegna sul piattino degli archi. La zona dove poi i punti si vanno a incontrare, quella è la sua posizione della mandibola. Così abbiamo un'idea esattamente di dove sta l'occlusione centrica, la centratura diciamo dell'occlusione. Allora noi blocchiamo a quel punto i denti di su con quelli di giù, con un silicone. Li riporti in laboratorio e loro esattamente montano poi i modellini in quella posizione e sanno che quella è l'occlusione che devono usare. Poi hanno delle rotelline di lato che dici quanti gradi deve andare in disclusione, che te lo riprendi da quel piattino. E l'articolatore ti fa muovere esattamente la bocca con quei valori. Quelli si chiamano valori, parametri individuali con cui realizzi poi la bocca. Grazie.